lo strumento che vado a presentarvi ora è uno strumento incredibile sempre della famiglia degli shaker e questo qui sono due e si chiamano techno shakers devo dire che sono molto interessanti innanzitutto ascoltiamo il loro suono diciamo tradizionale usati come shaker come avete notato le due superfici possono essere suonate e generano degli effetti completamente diversi con un solo shaker sono riuscito a creare un disegno ritmico con due suoni lo stesso fa anche il grande questo è un set che viene venduto insieme bellissimo ma fin qui diciamo non ci sarebbe nessuna particolarità in più per avere questi shaker in realtà con lo shaker più grande è possibile modulare il pitch pigiando sulla superficie superiore e anche su quella inferiore bellissimo molto interessante un ultimo suggerimento già qualche anno fa avevo fatto un video simile a quello che vi farò vedere con un altro shaker della mainel la stessa cosa è possibile riprodurla con questo shaker vi faccio ascoltare una delle mie idee e come utilizzo io questo shaker il vincito è un'altra cosa è possibile riprodurla con il profilo di riscoglio non è possibile riprodurla con il fatto che si fanno non è veramente lo stesso che vuole anche la stessa cosa è possibile riprodurla con i suoi Spero vi piaccia, io lo uso tantissimo, mi diverto tantissimo, mi dà la possibilità di fare una marea di cose utilizzando un solo e semplice strumento, TecnoShaker by Mail.